Crotone-Norimberga, ma quanto è forte questa amicizia? È un'amicizia che sta crescendo, che si sta fortificando, il titolo di stasera è Vola alta l'amicizia ed è proprio così, stiamo andando sempre più in alto, è un'amicizia che ormai dura da quando c'era il volo Crotone-Norimberga, il volo l'hanno tolto ma l'amicizia è rimasta. Questa sera abbiamo con noi il corrispondente generale del Consolato a Norimberga, Gunther Kreuzzer e Nicoletta De Rossi, che è presidente dei Comites, Comitati Italiani all'estero ed è anche una giornalista che ha scritto bellissimi articoli in lingua tedesca sulla nostra città. Quanto i tedeschi vogliono tornare nella città di Crotone? I tedeschi che vengono ritornano sempre, quindi loro si innamorano di questa città. Mi ha colpito un tedesco che mi ha detto, sono andato a Tropea ma non mi è piaciuta tanto perché lì era strapieno di turisti. Crotone invece è stupenda, ci sono le spiagge letteralmente vuote perché a settembre sono quasi vuote e per loro questo è l'ideale. Senta allora, queste due città devono tornare a volare alto insieme? Assolutamente sì, è una grande opportunità quella di questa sera per pubblicizzare, per rendere ancora più forte questa amicizia, una bella amicizia che si è creata nel tempo e che dà anche dei risultati da un punto di vista pratico, ci sono tanti tedeschi che amano l'Italia che vorrebbero scoprire chiaramente questa regione e Crotone e ci sono tanti connazionali che vivono in Germania e per loro sarebbe una grandissima opportunità quella di avere questo volo che collega direttamente le due città. Quali erano i numeri dei voli? Allora, i numeri dei voli erano molto interessanti perché si era arrivati addirittura a un 90% della capienza quindi immaginiamoci i voli praticamente sempre pieni e questo lo scopo è anche di spalmare la sagionalità e non limitarsi al periodo estivo ma di creare questa opportunità anche per tutto l'anno semplicemente per il fatto che Crotone gode di una situazione climatica così favorevole che potrebbe essere allettante per chiunque. Per poi tornare ai nostri connazionali, il periodo natalizio, il periodo delle festività e quindi invernali è sempre un'occasione per tornare a casa. Senta, un volo che ha sempre funzionato a Crotone e a Norimberga e che ha unito queste due città, ma adesso cosa bisogna fare per riportare questo volo? Bisogna insistere di far tornare questo volo perché da quanto mi hanno detto dall'aeroporto di Norimberga aveva sempre un 90% di capacità prenotato, era sempre pieno pieno e non solo per italiani che volevano fare una visita in Calabria ma anche per tedeschi che volevano fare turismo e bisogna anche sapere che nella zona di Norimberga, nella Baviera del Nord ci sono 3 milioni e 500 mila abitanti allora è un mercato abbastanza interessante per il turismo e anche per l'industria e l'economia. E quanto i cittadini di Norimberga o del circondario vorrebbero tornare a Crotone? Vorrebbero sempre tornare sia per agosto sia durante tutto l'anno perché la differenza tra Norimberga e Crotone è che durante l'estate è sempre bello in tutte e due regioni però per l'inverno, per l'autunno a Norimberga fa freddo allora bisogna andare a Crotone dove c'è sempre il caldo come ora. Poi invece nel viaggio inverso, quanti crotonesi potevano soffrire di quel viaggio da Crotone fino in Germania? Comunque da quando c'era questo volo diretto io quando sono venuto con l'aereo, sono tornato da Crotone a Norimberga ho sentito sempre tante voci di abitanti di Crotone dall'altra parte bisogna capire che nella zona di Norimberga vivono 25.000 italiani e una gran parte viene dalla Calabria allora vuol dire che questo volo è molto importante anche per tornare in patria. Come si struttura adesso l'amicizia, l'asse tra la Germania, Norimberga e l'associazione Amici del Tedesco? E allora il promotore, il più grande promotore di questa amicizia è Loris Roseto lui viene sempre con dei gruppi a Norimberga per esempio a luglio c'è stato con l'assessore all'economia e commercio con Maria Bruni e abbiamo avuto un incontro anche con delle autorità di Norimberga allora secondo me Loris porta avanti questa amicizia. grazie